Politica articolo tratto dall'edizione in edicola il giorno 3 febbraio 2018. Pizzarotti, io l'anti Renzi della sinistra? Può succedere qualunque cosa. Ora lancio il partito dei sindaci, il sindaco di Parma, nell'M5S opportunisti e furbetti di altri partiti non esclude nulla nel proprio futuro politico, Federico Pizzarotti. Nemmeno che potrebbe diventare l'anti Renzi, nel centro-sinistra, tutto può essere, ma devono deciderlo gli altri. Non spetta a me. Vedremo cosa sarà il centro-sinistra dopo le elezioni. Intanto il sindaco di Parma, ex 5 Stelle, si dedica a creare il partito dei sindaci. Un altro partito dei sindaci, è vero, ci hanno provato altre volte, soprattutto in momenti di grande debolezza politica. Ma con risultati poco entusiasma, continua Ilario Lombardo non sei abbonato? Acquista subito un abbonamento. La stampa premium, i nuovi contenuti riservati agli abbonati. Acquista sei già abbonato? Inserisci email e password ed accedi alla stampa premium accedi Scopri la stampa premium scopri l'offerta Scopri l'offerta Presenta l'offerta Grazie a tutti